Il nuoto, la gara ciclistica, la corsa con staffetta, è italiano il podo della Europe Triathlon Cup di Caorle che conquista tre medaglie d'oro e una d'argento con l'azzurra Carlotta Missaglia e Angelica Presti, rispettivamente oro e argento per la categoria Elite Donne e la vittoria di Ewan De Nigro nella prova individuale maschile riservata alla categoria Junior nella tre giorni di gare internazionali tenutisi nello scorso fine settimana tra Caorle, Porto Santa Margherita e Altanea A prendervi parte tre atleti Junior ed Elite provenienti dai cinque continenti oltre al gruppo degli anziani di Age Group Un totale complessivo di 350 atleti, 120 uomini, 90 junior donne, 70 Elite uomini e 70 Elite donne Numeri e storie che raccontano di una località protagonista di competizioni internazionale con medaglie e podi azzurri e con, è il caso di dire, l'argento vivo addosso Grazie mille Grazie mille